Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema, vediamo insieme le news di oggi. Takeshi Kitano torna al cinema con Outrage, un gangster movie. La casa di produzione del regista, la Office Kitano, ha annunciato che il film uscirà in Giappone il prossimo 12 giugno. Miramax in crisi. Era stato annunciato l'acquisto da parte di Harvey Weinstein, ma la notizia è che già gli uffici di New York e Los Angeles sono stati chiusi. Anche per il destino degli ultimi film targati Miramax c'è poco da sperare. The Depth e Last Night sono destinati a sparire. Nuova fatica per Zac Efron. Sarà lui il protagonista di Fire, thriller in cui interpreterà un agente segreto della CIA. Zac Efron è fresco di film con Me and Orson Welles, dove interpreta un giovane studente che viene notato per caso da Orson Welles. Vi lascio con il trailer di oggi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.